ciao e benvenuti in questa sesta lezione dove parleremo dell'editing multicamera abbiamo arricchito il nostro montaggio perché in fase di ripresa abbiamo utilizzato più telecamere per riprendere l'intervista il convegno l'evento sportivo la rappresentazione teatrale ma in montaggio ci troviamo a dover sincronizzare tutti questi angoli di ripresa e stare attenti a non perdere il sync ma da vinci permette la sincronizzazione e la visualizzazione di questi angoli di ripresa aiutandoci nel montaggio in questa lezione quindi vedremo non solo come editare in multicam ma anche come risolvere alcuni problemi comuni let's go per iniziare prepariamo la lezione come al solito dal project manager clicchiamo tasto destro import project andiamo dove abbiamo le nostre directory clicchiamo sulla prima 201 lesson e andiamo su lesson 6 multicam clicchiamo una volta apparso il progetto clicchiamo due volte il tasto sinistro andiamo a rivincare tutti i media clicchiamo su master pre link clips andiamo sulla seconda parte clicchiamo su 201 multicam e seleziona cartella nel bing sasha abbiamo due clip con due angoli diversi di inquadratura è un'intervista di sasha è un negozio di biciclette abbiamo la camera 1 e la camera 2 la prima cosa da fare è quella di andare a sincronizzare i nostri media quindi andiamo a selezionarli entrambi premiamo tasto destro e andiamo su create new multicam clip using select clip che vuol dire che andiamo a creare una clip multicam con le due clip selezionate clicchiamo appare questo pannello dove come nome della nostra multicam che viene creata andiamo a scrivere sasha interview lasciamo 24 frame come angolo per la sincronizzazione spostiamoci su sound lasciamo sequenziale togliamo il segno di spunta per spostare le clip su un bing chiamato original clip in questo momento non ci serve e clicchiamo create a questo punto è stata creata questa clip che come vedete è una clip multicam cioè contiene già sincronizzate le nostre due riprese da vinci ha fatto tutto il lavoro per noi ora chiudo inspector così vedo i due viewer clicco due volte così l'avrò caricata e come potete vedere qua in alto ovviamente viene il nome della mia multicam clip qui la multicam è segnata con questa icona di quadratini e qua come vedete appunto ho le due visualizzazioni se mettiamo in play ho possibilità di vedere che le sorgenti sono in sync ora andiamo all'inizio e mettiamo in play l'intervista avete notato che l'angolo 1 la camera 1 inizia un po' di secondi dopo ma questo non è un problema perché è solo partita un po' dopo ma poi è regolarmente in sync ne approfitto per dire che le parti sincronizzate non devono avere per forza la stessa lunghezza una clip potrebbe essere solo una piccola parte e essere sincronizzata in quella parte a cui fa riferimento non per forza entrambe le camere devono aver registrato tutto l'evento ora andiamo ad inserire l'in point e l'out point l'in point lo inseriamo prima che Sasha dica I was a big fan of Orson Well a circa 7 secondi vediamo qui a 7 esattamente in e poi andiamo avanti finché Sasha annuisce alla camera prima che dica short of epic coincidence andiamo a vedere I was a big fan of Orson Well I had done several projects on him going through school and stuff like that so I appreciated the pun and the play on the word of Citizen Kane, Citizen Chain and then only after we named the shop by certain course of events we found out that Rosebud was really a bicycle the inspiration for Rosebud as a sled was a bicycle that the screenwriter had as a child sort of a happy coincidence for a 1 e 34 lo mettiamo prima qui segniamo l'out point a questo punto clicchiamo sul bin delle timeline prendiamo ctrl n o option n per creare una nuova timeline e andiamo a rinominarla come multicam interview lasciamo tutto così e premiamo create ecco qua la nostra timeline e da qua premiamo f10 per inserire la nostra multicam clip all'interno della timeline vedete che questa clip è sempre segnata con la presenza di questa icona che identifica che questa è una multicam infatti possiamo leggere anche angle 1 cioè è la prima camera se necessario premete in timeline shift z per avere tutta la clip ben visualizzata possiamo anche restringere un po' quest'area qua e togliere la FL library adesso andremo a effettuare un radio edit come abbiamo imparato la scorsa volta per andare a ripulire l'audio da tutte le imperfezioni che Sasha ha detto durante l'intervista le classiche a a e o delle ripetizioni come vedete non stiamo facendo un multicam classico al volo dove andiamo a premere l'inquadratura che ci interessa ma andiamo proprio a editarlo perché questo sia più perfetto possibile quindi ci portiamo sul primo A che sentiamo di Sasha eccolo qua qua così sono a 4 secondi e 6 inserisco un in point vado dopo inserisco un out point come abbiamo fatto altre volte premiamo shift e backspace possiamo premere slash per riascoltare questa parte ok adesso andando avanti c'è un leggerissimo alla fine della parola I appreciate the pun è appena appena percepibile ma andiamo a ingrandire in e out possiamo anche tagliare un po' di di spazio qui shift backspace e quello subito dopo molto più facile da sentire prima che dica citizen 8 e 13 ok e subito dopo prima che dica and only after to rename the shop qui stessa cosa qui si è perso un po' se sentite quindi a questo punto tagliamo qui dopo we name the shop mettiamo un in e riprendiamo a we found qui quindi tagliamo via tutta questa parte così è più scorrevole poi continuerebbe dicendo the inspiration of roseboat ma per noi la storia chiude qua perché il regista ha deciso che fin qua va bene quindi qui mettiamo un in point ma non selezioniamo l'out point premendo shift e backspace andiamo a cancellare tutto il resto perché la nostra storia sentite chiude qui ora ripremiamo shift z e riascoltiamo se la nostra storia va bene come avete visto abbiamo fatto un montaggio che non avremmo potuto fare direttamente andando a montare i multicam ci saremo tenuti tutti gli errori in questa maniera invece abbiamo realizzato la nostra base dell'intervista pulita e ora andremo a cambiare semplicemente gli angoli per nascondere tutti i jump cut che si sono venuti a creare nel nostro montaggio quindi andiamo a intervenire proprio sul primo jump cut questo qui semplicemente posizionandoci sulla prima clip premiamo tasto destro e andiamo a cliccare switch multicam clip angle to angle to in questa maniera ci siamo spostati sulla seconda camera e così abbiamo nascosto il taglio per rendere ancora tutto meno visibile ci portiamo con la playhead qui e premiamo il tasto v andiamo con il tasto alt u a selezionare solo la parte video e sempre con mu se necessario andiamo a selezionare entrambi i tagli uscente entrante ora faremo un rolling trim premendo la virgola e andiamo a realizzare un l cut in questa maniera bastano pochi frame indietro e se adesso andiamo a rivedere abbiamo una continuità maggiore nell'intervista bene usiamo questa tecnica di cambiare l'angolo a intervalli regolari del clip questo è l'angolo 1 clicchiamo sulla terza clip e spostiamola su angolo 2 e così lo facciamo con la quinta e la spostiamo su angolo 2 riguardiamo tutta l'intervista e se è necessario rifacciamo il rolling trim che abbiamo fatto qua creando yell cut comunque ricordatevi che non sempre l'hell cut può andare bene ma magari potrebbe funzionare meglio un jcut in questo caso usate il tasto più per spostare i frame quando il montaggio vi sembra buono selezionate tutte le clip in timeline premete tasto destro e andate su flatten multi-cam clip in questa maniera liberate da Vinci da avere la multi-cam clip qui e le vostre riprese saranno fissate ora non sarà più possibile modificare il vostro angolo di inquadratura vedete che non è più presente l'icona del multi-cam ovviamente questo montaggio può essere migliorato però vediamo già come con l'utilizzo di più telecamere non è necessario riempire di b-roll o utilizzare lo smooth cut ma l'aspetto più bello del editing multi-cam è proprio quello di poter fare diciamo la regia come ci trovassimo veramente sul posto e quindi farla in post-produzione cliccando direttamente in tempo reale sulle camere che abbiamo registrato precedentemente lasciamo perdere la timeline di Sasha ci spostiamo su timeline premiamo di nuovo ctrl o command n e andiamo a creare una timeline intitolata simple music video andremo ora a esercitarci con un video musicale creiamo la timeline che si apre va a sostituire quella che avevamo precedentemente e questo lo possiamo vedere anche qua vedete che abbiamo le due timeline adesso andiamo nel master bin e scegliamo da qua 02 jbr angle clicchiamo sul bin con il tasto destro e facciamo di nuovo create multicam clip using select bin andiamo a rinominare questo in simple music multicam cambiamo come prima l'angolo in sound se non lo fosse già spostiamo però angle name in clip name in maniera da avere le camere ordinate secondo come sono state nominate le clip e poi facciamo create ed ecco qua la nostra multicam clip possiamo cliccare due volte per aprirla sul source e come vediamo qua abbiamo i nomi che erano relativi alle clip camera 1 camera 3 camera 10 e music che è la traccia audio registrata in studio un'informazione è possibile creare delle multicam clip utilizzando o una multiselezione su più clip oppure il contenuto di uno o più bins sono tornato un attimino indietro sul pannello per la creazione delle multicam per farvi vedere che su angle name se mettete sequential avete degli angoli delle camera nominati come angolo 1 angolo 2 in base al valore iniziale di timecode in base alla successione se scegliete clip name avrete saranno ordinati alfanumericamente in base all'etichetta al nome della clip e allo stesso tempo se mettete metadata verranno ordinati in base alle informazioni dei campi di metadata come vedete vengono visualizzate quattro camere e l'angolo del nome è preso dall'angolo delle clip originali inoltre come potete vedere all'inizio non c'è immagine perché questa musica parte dopo e sentiamo il metronomo e altri suoni ambiente questa rappresentazione sul viewer è un 2x2 e la successione delle camere è da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso quindi come potete vedere qua è inserita camera 1 e qua troviamo la camera successiva che nel nostro caso è 3 poi la camera successiva 10 e infine la musica quindi la lettura è così quello che stavamo ascoltando era all'errativo alla camera 1 andiamo qui sul menu e siate sicuri che sia selezionato video e audio e poi premiamo l'angolo relativo alla musica e proviamo a ascoltare ora sentite che stiamo ascoltando quest'angolo qui la musica registrata pulita ora andiamo a prepararci la base per il montaggio inseriamo un punto appena prima che la musica inizi a 3 secondi e 3 in point e poi premiamo F10 per fare un overwrite come vedete in timeline però abbiamo portato il nero della musica e non vediamo assolutamente nulla premiamo anche shift z così vediamo l'intera clip adesso andiamo qui sul viewer e da qui e clicchiamo questo pop up menu e scegliamo multicam a questo punto vedete tre icone solo video audio e video solo audio clicchiamo solo video perché ora andremo a cambiare questa clip nera con la clip che ci interessa quindi premete alt o option in mac e premete tasto sinistro sulla prima clip in alto quindi alt tasto sinistro e vedete che la clip nera è stata sostituita dall'angolo 1 inoltre notiamo una cosa abbiamo due riquadri uno azzurro e uno verde il riquadro azzurro indica il video attivo e il riquadro verde indica l'audio attivo in questo momento in timeline abbiamo appunto il video e l'audio ora arriva la parte divertente mettiamo in play in timeline quindi andiamo all'inizio mettiamo in play e mentre il nostro filmato scorre clicchiamo semplicemente con il tasto sinistro sulla ripresa che desideriamo andare a cambiare facciamo questa prova all'inizio non sarà così semplice i tagli non verranno dove vogliamo ma è importante capire come funziona quindi play in play ecco avete visto qua alla fine io ho fatto un cambio ma poi la ripresa è finita adesso andiamo a vedere come poter correggere l'edit che abbiamo fatto come avete visto man mano noi premiamo sulla clip che ci interessava sull'angolo che ci interessava sono stati creati dei tagli proprio sul montaggio e la clip inserita è l'angolo di ripresa che noi desideravamo quindi ci troviamo delle clip tagliate a seconda di ciò che abbiamo premuto un suggerimento è quello che oltre a premere direttamente col mouse nella multicam clip possiamo anche premere il tasto numerico relativo all'inquadratura che vogliamo inserire in timeline andando ovviamente in ordine quindi 1 2 3 e in questo caso 4 è solo la nostra musica quindi se volete potevate fare lo stesso esercizio semplicemente premendo da tastiera 1 2 e 3 ora probabilmente abbiamo compiuto uno o due errori uno è quello di aver scelto un angolo di ripresa sbagliato quando dovevamo sceglierne un altro e il secondo problema potrebbe essere quello di non averlo fatto nel momento giusto se vogliamo sostituire una ripresa possiamo fare così se noi mettiamo in play in timeline vediamo che la multicam ci segue e è sincronizzata guardate quindi se io mi fermo qua ovviamente anche questa è posizionata corretta anche questa e anche questa proviamo ad esempio a sostituire questa terza e mettere il chitarrista non ha importanza dove ci troviamo con la playhead sulla clip l'importante è premere alt e clicchiamo sull'angolo desiderato e vedete viene sostituita tutta la clip non serve nemmeno selezionarla guardate quindi per cambiare un angolo di ripresa andiamo ad esempio dove io ho sbagliato qui voglio lasciare ancora voglio mettere il batterista mettiamo io mi trovo qui premo alt e seleziono il batterista in questa maniera viene sostituita adesso anche questa finiva prima ma era solo per farvi vedere qua voglio tornare sulla cantante quindi clicco qua viene creato un taglio e inserita la cantante voglio di nuovo la chitarra premo e ho creato un nuovo taglio con la chitarra se vedo che ho sbagliato un angolo qua volevo il chitarrista alt e clic su il chitarrista e quella viene sostituita vedete che non crea un taglio sotto la va a sostituire vedete anche come cambia il simbolo del mouse se io non premo nessun tasto mi indica che farà un taglio se io premo l'alt dice che la sostituisce questo è il simbolo del replace ovviamente il discorso di cliccare che vi ho spiegato prima che potete fare anche con i numeri vale anche per la modifica in timeline quindi se io qui premo 2 farò il taglio e sostituirò l'angolo se invece premo alt 2 sostituirò l'angolo quindi vale la stessa cosa sia col mouse che con i numeri da tastiera quindi se vi trovate più veloci ad esempio voglio inserire qui la batteria un attimo premerò 2 e verrà fatto il taglio e inserirò la batteria qua voglio tornare al chitarrista perché è finita e quindi invece premerò alt 3 e avrò sostituito con il chitarrista come avete notato questa cosa vale sia con la timeline ferma cioè io mi sto spustando e facendo la modifica in quel punto sia vale in play durante la visione perché io metto in play premo 3 e ho fatto il taglio premo alt 1 e ho fatto la modifica che avete visto l'ho fatto mentre ero in visione come abbiamo potuto vedere fare un multicam con poche camere può essere anche divertente e poi ovviamente possiamo intervenire sul montaggio con tutte le funzioni che da Vinci ci da ma creare un montaggio multicamera con molte telecamere incomincia a essere complesso anche perché potremmo aver bisogno di risolvere alcuni problemi e adesso è quello che andremo a fare andiamo nel bin timeline premiamo ctrl o comand n e creiamo una timeline che si chiamerà complex multicam e creiamola come prima la timeline viene creata e sostituisce la precedente e ora selezioniamo il bin 02A JBR angle e con ctrl more angle poi clicchiamo tasto destro e scegliamo crea un multicam clip use select bin se vi crea problemi creare così la multicam potete premere con il tasto sinistro solo sul cassetto music video essendo che li contiene entrambi sarà la stessa cosa create e scrivete miserabber girl stessi dati di prima create ed ecco quindi la nostra multicam premiamo due volte per aprirla nel viewer se per curiosità volete sapere dov'è il metadata che identifica la camera se andate nei metadata potete cliccare qua e selezionare shot and shoot e vedrete il nome della camera e vedrete il nome della camera che la identifica quindi questa è un'ursa 2 ursa 2 ursa 4 ursa 5 ursa 6 7 8 e 9 come vedete quindi ora andiamo in testa e mettiamo un in point prima che la musica inizi a 3 secondi e 5 qui e facciamo f10 overwrite come avete visto in timeline viene riportata la clip 1 con l'audio della clip 1 perché proprio questa è la prima clip in lista perché è ordinata secondo il nome e quindi viene presa questa come riferimento ora mettiamo qui il multicam sul viewer e andando in play qui diamo un'occhiata se le clip sono sincronizzate ogni tanto potremo vedere dei buchi ecco vedete qua la clip 2 si è spenta la camera e poi ritorna con un altro clip sincronizzata e ecco perché avevamo inserito il comando per mettere le stesse camere nella stessa traccia proprio per questo motivo dovete sapere che se anche la multicam clip vi sembra un'unica clip in timeline in realtà è una particolare timeline composta da tutte le nostre tracce ed è possibile anche andarla a editare per operare delle modifiche quindi adesso andiamo a cliccare qui per visualizzare le stack timeline quindi clicchiamo sulla prima opzione stack timeline che ci dà l'opportunità di avere le tablet timeline in realtà cioè più tab per ogni timeline e ora semplicemente clicchiamo con il tasto destro sulla nostra multicam clip e clicchiamo su open in timeline in questa maniera come vedete si è aperta un'altra timeline e su questa abbiamo tutta la nostra multicam se noi andiamo a ingrandire così vediamo che vediamo più tracce vediamo che c'è la camera 1 con l'audio 1 camera 2 con l'audio 2 e così via e a tal proposito vediamo che questa camera è nominata diversa dalle altre le altre hanno solo cam e numero quindi clicchiamo due volte qui e andiamo a cancellare l'ultima parte per portare tutte le clip uguali e se clicchiamo su complex multicam allarghiamo di nuovo qua torniamo sulla nostra multicam possiamo vedere che ora il nome è aggiornato vedete non ha più il pt che c'era prima ritorniamo di nuovo qui sulla nostra multicam aperta e molte volte può succedere quando siamo nella visualizzazione della nostra multicam che tutte queste camere possono anche confonderci qui in basso abbiamo una visualizzazione che ci indica che griglia abbiamo visualizzato qui in questo momento abbiamo una griglia di 4x4 che è anche il numero massimo di camere che possiamo visualizzare cioè 16 camere cliccando qua possiamo portarci questo schermo a visualizzare quante camere desideriamo in un solo momento ad esempio facciamo 3x3 come facciamo a vedere tutte le camere però come vedete qui abbiamo un menu per spostarci tra le varie pagine qui i puntini indicano che abbiamo due pagine e possiamo o cliccare sul puntino o spostarci con la freccetta proviamo a scendere sotto e come vedete i puntini si moltiplicano dice una griglia di 1x2 e qua possiamo spostarci cliccando o sempre con le freccette adesso scegliamo una griglia di 3x3 un'altra cosa importante è che se non avete un computer molto veloce ridurre le telecamere visualizzate aumenterà le performance del vostro computer perché più camere sono visualizzate e più pesante è da riprodurre per il computer ora che abbiamo questo tipo di visualizzazione se cambiamo pagina vediamo che di qua abbiamo questa camera 10 con il chitarrista e però siccome questa angolazione è importante ci piacerebbe averla in prima pagina quindi andiamo a imparare come spostarci le tracce in maniera da avere questa camera nella prima schermata quindi ritorniamo su Miserable Girl e andiamo a cercare e invertiremo le tracce 10 che è quella del chitarrista con la 9 per farla clicchiamo in testa alla traccia e come vedete possiamo spostare l'angolo giù o su in questo caso lo spostiamo giù e queste tracce si sono invertite ora c'è il chitarrista qui e la camera 9 è salita in alto se ritorniamo sulla nostra clip multicam ora possiamo vedere che il chitarrista è in prima pagina mentre nella seconda pagina abbiamo spostato l'altra inquadratura di camera 9 che era meno interessante un altro motivo per cui ci potrebbe servire aprire una multicam è quello di inserire delle angolazioni che non sono state inserite in quel metodo ad esempio noi abbiamo scelto Timecode e abbiamo una camera che non ha il Timecode e vogliamo andare a inserirlo allora clicchiamo qui sulla line view option e clicchiamo qui andiamo a ridurre tutte le tracce in maniera da visualizzarle vedete anche che la camera 2 veniva interrotta e poi riprende come si vedeva dal source monitor adesso andiamo nel cassetto J3 Extra e abbiamo questo nuovo angolo che vogliamo inserire clicchiamo due volte e lo apriamo nel sorgente ora vediamo che qui c'è un marker se ci portiamo all'inizio della clip e premiamo Shift e la freccia giù salteremo esattamente quel marker quel marker è stato posizionato perché inizia la musica da quel punto quindi possiamo premere un in point lì questo angolo della camera è la ripresa totale dal basso quindi adesso andremo ad aggiungerla nella nostra timeline premiamo Alt Ctrl e 1 per disattivare l'audio perché altrimenti inserendolo andremo a sovrascriverlo poi ci portiamo con la playhead all'inizio della timeline e andiamo esattamente a 3.05 dove inizia anche questa clip e adesso da qua dal source premiamo F12 F12 è il place on top e andrà a inserire avrà inserito il nostro angolo sopra nella prima traccia libera che troverà osserviamo bene se questo taglio ci sembra in sync e eventualmente possiamo usare slip and slice streaming per aggiustarlo se fosse un po' fuori di sync normalmente quando abbiamo fatto place on top si sarebbe inserito sia il video che un'eventuale traccia audio ma come vedete la traccia 11 esisteva già perché c'era la musica noi abbiamo usato la stessa traccia 11 in video inserendo solo il video quindi cosa succede che entrambi si trovano in traccia 11 e se andiamo a vedere sulla seconda pagina sia il video che la musica occupano l'undicesimo posto una volta che abbiamo finito di fare le modifiche alla nostra multicam in timeline possiamo chiudere Miserable Girl e lasciamo solo la traccia sulla quale stavamo lavorando del montaggio che stiamo andando a fare allora adesso ritorniamo alla nostra multicam clip e andiamo a inserire solo audio perché? perché qui in realtà noi abbiamo preso la camera con il suo audio andiamo a sentire sentite che questo è l'audio ambiente che ha ripreso la camera quindi adesso mettendo solo audio andremo a sostituire questa traccia con quella della musica quindi Alt Click vedete che cambia premendo Alt viene Replace e clicchiamo sulla musica in questa maniera abbiamo sostituito sentiamo ora finalmente viene la parte divertente per voi tornate all'inizio andiamo sulla prima pagina mettiamo in Play e incominciamo a editare la nostra timeline riportiamo solo video mi raccomando mettiamo Play e fate la regia o premendo con il mouse o come detto utilizzando i tasti numerici da tastiera ed ecco il mio montaggio multicam e poi una curiosità se andate online troverete il video ufficiale della cantante già montato potrete tenerlo un po per riferimento e vedere se voi avreste fatto un montaggio diverso bene questa lezione termina qui vi ricordo che seguirà la lesson review mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale se non siete iscritti e cliccare sulla campanella se volete essere sempre avvisati quando posto un nuovo video e se volete sostenere il mio canale abbonatevi vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao